Salve ragazzi bentornati sul canale siamo in un nuovissimo episodio perché stasera dobbiamo fare esattamente la farm di esperienza di scheleti quindi un bellissimo mob spawner di scheleti che ci aspetta le coordinate ce l'ho nel libro dove ho messo il libro questa è una bella domanda eccolo qua allora qua ci sono i vostri consigli che poi faremo quando li facciamo li cancello allora eccola qua la farm di scheleti queste sono le coordinate preparo tutto e andiamo velocissimamente ragazzi voi non ci crederete ma io sono dovuto andare a prendere altro ferro perché non ce l'avevo più ero rimasto con due lingotti schifosi rendiamoci conto cioè voglio dire non è fattibile giocare in questo modo non è assolutamente fattibile comunque ho preso un pochino di ferro niente di che cioè voi pensate che chissà quanta roba ho preso 10 pezzi di ferro vediamo se qua ne avevo messi a smelta altri 2 perfetto carbone sopra che ho messo male perché devo farmi un secchio giustamente per fare il secchio serve ferro non è che posso andare a fare la farm di scheletri con un unico secchio d'acqua è una roba impensabile allora con 4 ce la facciamo? si ce la facciamo meno male ho 2 secchi d'acqua almeno li possiamo fare sistemiamo le cose che non ci servono qua dentro e cerchiamo di ritrovare la farm di scheletri tanto in teoria e sottolineo in teoria dovrei riuscire a raggiungerla anche senza coordinate ci si potrebbe provare a fare questa cosa mettiamo pure questo abbiamo sta super fornacella eh qua è finito il carbone lo so eh purtroppo non ci posso fare niente ho toccito questo inizia a tirare fuori roba che ci serve oh il ferro onde sta? ma eccolo eh pareva strano guarda guarda è velocissima però eh cioè voglio dire ce ne sono 7 di fornace non è chissà quante ne abbiamo messe però col fatto che sono le blast fornesche di per sé sono più veloci effettivamente è una bella una bella bestiolina diciamoci la verità ci prendiamo anche un po' di cibo il carbone in teoria dovrei averlo ancora qua il carbone e infatti facciamoci un po' di torce facciamo tutto quello che serve dai no non vi intrattengo in queste operazioni di sistemazioni tecniche dell'inventario allora in teoria dovremmo avere tutto quindi possiamo incamminarci sì l'armatura è messa malissimo me ne rendo conto ma non è un problema allora cerchiamo di prenderci intanto una secchiata d'acqua da qualche parte tolgo questa io quasi quasi toglierei questa perché no allora se non mi ricordo male si anzi passava dove c'è il portale del neder e poi si andava qua non vorrei dire una cretinata ma probabilmente è già sbagliato strada forse si scendeva di qua non lo so eh andiamo in esplorazione ragazzoli c'ho un mezzo ricordo ma probabilmente mi sto sbagliando tantissimo no non mi sto sbagliando perché questa qui è la ma c'è un diamante attenzione signori ma che cacchio ho fatto a non vederlo eh sì questi sono proprio diamanti oh uno vabbè uno ok dicevo qua c'è il blocco diametista non mi ricordo come si chiama sto globo assurdo e in teoria aia qua intorno dovrebbe starci il mob spawner esattamente qui dentro da qualche parte qui e infatti eccolo qua perfetto l'abbiamo trovato allora cerchiamo un attimino di sistemare il tutto quindi allora per fare un mob spawner di scheletri serve fare la zona giustamente dove devono spawnare quindi facciamo tre blocchi di qua tre blocchi di qua quindi un 7x7 dovrebbe essere se non mi ricordo male e dovrebbe essere profondo almeno due quindi adesso rompo tutte queste cose facciamo un po' di esperimenti beh diciamoci la verità con il piccone incantato è tutta un'altra cosa nonostante questo piccone sia una fetecchia perché alla fine c'ho efficiency 2 non è che c'ho chissà che cosa però rispetto a quello normale già è molto molto meglio insomma allora io mi scavicchierei tutte queste cose in questo modo qua intanto c'ho il cane che è impazzito ragazzi tra cane cat non si capisce nulla eh allora vediamo se così va bene in teoria già dovrebbe andare bene perché voglio dire due blocchi d'altezza basta ne avanzano quindi cosa si faceva una cosa del genere sto facendo solamente delle prove infatti è esattamente così che si fa perfetto ok era giusto un 7x7 passa la paura allora va bene va bene abbiamo capito che si fa in questo modo qua io sfascerei un po' di robetta ovviamente ora lo facciamo in modo molto spartano ragazzi perché non è che mi posso mettere a fa' il super mob spawner della vita poi lo potenzieremo perché lo faremo con gli scheletri che salgono sopra beccano il danno da caduta e muoiono malissimo farlo già da adesso non lo so se mi convenga non ve lo so dire magari mentre mentre sto qua e costruisco cambio dello faccio così non lo so allora intanto qua è tutto illuminato quindi da questa parte non dovrebbe arriva nessuno sto pezzettino di oro che fai non te lo prendi me lo prendo tantissimo quindi io chiuderei proprio in allegria da qui e così sì perfetto ok ho pochi blocchi effettivamente non mi sono portato i blocchi perché sono stupido cioè non c'è un'altra spiegazione potrei dirvi tante spiegazioni ma la realtà è solamente una tanto qua metti illuminiamo che questa zona altrimenti era drammatica allora per fare un mob spawner efficiente dovete illuminare da tutte le parti nei paraggi altrimenti a parte che gli scheletri potrebbero spawner fuori dalla zona di contenimento e questa è un'ipotesi orribile ma un'altra ipotesi orribile è che nel nei dintorni spawnano altri mob e quindi abbassano il rating di spawning cioè praticamente non è che in una zona possono spawner ventordici mila mob quindi chiaramente meno ne spawnano e più scheletri cicciano fuori questa è la la teoria di base quindi bisogna illuminare tutte le zone circostanti per evitare che spawnano altri mob in modo che in questa zona io vorrei tanto che spawnassero solo ed esclusivamente dei begli scheletrini pronti pronti per essere ammazzati questa è la teoria poi vediamo se anche la pratica sarà così comunque perfetto qua l'abbiamo fatto qui farei una roba di questo tipo tanto per comodità allora vediamo dove arriva l'acqua intanto facciamoci una pozzetta d'acqua infinita perché altrimenti non possiamo fare molto io farei così una di qua un'altra di qua e siamo contenti questa roba dell'acqua infinita su minecraft è una figata io l'ho sempre adorato cioè voi immaginatevi per un secondo immaginate immaginate con me per un secondo se non ci fosse sto fatto che praticamente puoi fare una pozza d'acqua infinita sarebbe una tragedia cioè una roba mostruosa come cavolo fai? non si fa allora si dovrebbe essere qua che mi devo fermare va bene va bene allora facciamo così tac 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 e questo è il punto dove gli scheletri dovrebbero arrivare esattamente qui facciamo le solite prove tecniche buttiamo un po' di blocchi se magari se mi tolgono lì ok perfetto funziona sistemiamo anche le pareti da quanto tempo non facevo una farm di scheletri? perché sto togliendo i blocchi che non devo togliere? da quanto tempo non facevo una farm di scheletri? da un botto di tempo tantissimo ok loro cadono qui dentro ora come la vogliamo gestire sta cosa? perché per fare il discorso di farli risalire sapete che gli scheletri prendono danno da caduta se non mi ricordo male da 21 blocchi se cascano da 21 blocchi restano con mezzo cuore quindi tu li guardi li guardi male e loro muoiono e questa è la tecnica quindi solitamente si fa un sistema di salita con l'acqua che li fai salire fino a 21 blocchi che poi cascano e tu li secchi con un pugnetto questa è la teoria non so se ho voglia di farlo però allora intanto cerchiamo di capire come si ritorna la base da qua perché questo sarà il punto dove ci mettiamo a fare esperienza vediamo se ci riusciamo abbastanza velocemente in teoria questa è una strada che sale e tutte le strade che salgono dovrebbero portare a casa mia più o meno ma è solo una teoria chiaramente dopo un giro immenso mi sono perso tantissimo e questo pepistello mi ha terrorizzato ma cioè non ho urlato non lo so per simpatia non ne ho idea però raga vi giuro mi sono spaventato davvero allora sì mi son perso tipico allora alla fine ho deciso di usare le coordinate perché era un casino di tornare alla base quindi le coordinate della farm sono meno 1431 meno 37 19 16 allora 1436 ci siamo 19 16 devo andare da questa parte suppongo sì per qualche blocco allora io posso fare tranquillamente così ne approfittiamo così vediamo pure se troviamo qualcosa di interessante che ne so dei minerali si trova niente da qua si scende ma da qua ci muoio malissimo allora dobbiamo scendere ancora di parecchio e guardate qua scavicchiando scavicchiando che bello una vena normale di diamanti porca zozza e meno male dai ci volevano un po di diamantozzi anche perché voglio dire una volta che facciamo la farm che abbiamo l'esperienza dobbiamo incantare oggetti sicuramente non mi metto a incantare oggetti di ferro vi pare ci pare ok ragazzi è passato un giorno un giorno esatto perché ero stanco quindi non ce l'ho fatta a fine di registrare l'episodio e praticamente ho deciso che mi hanno rotto le balle di andare in giro a cercare stradine e quindi ho fatto il tunnel sono stato costretto quindi questo è un tunnel che ci porta fino dove sta la fame di scheletri adesso la cosa che dobbiamo fare è mettere dei gradini perché un'altra cosa che io schifo è dare capocciate quando scendo e soprattutto quando salgo quindi con molta pazienza ci mettiamo a mettere un po di gradini qua e là questo è un lavoro effettivamente molto palloso cioè da 1 a 10 15 proprio la pallosaggine assurda però purtroppo se non lo facciamo è un casino perché scendere diventa veramente problematico e quindi bisogna poi chiaramente in un futuro remoto aggiusteremo questa discesa la faremo carina per il momento stiamo mettendo le basi di quello che vogliamo fare e piano piano lo andiamo ad aggiustare lo sistemiamo magari appena prendo nuovi blocchi perché non so nemmeno quanti sono i nuovi blocchi che hanno aggiunto su minecraft non sono nulla tipo ad esempio oggi è uscito un nuovo aggiornamento che siamo nello snapshot 24 v 09 a però non c'avevo sbatti di legge che è successo in questo aggiornamento magari hanno cambiato tutto io arrivo nella mia forma di scheletri ci trovo un mostro assassino e mi secca non lo so lo vedremo lo vedremo intanto ho messo già tutte le torce più o meno devo fa sto lavoro ragazzi ho messo tutti i gradini e con la coda dell'occhio attenzione ma quello è ferro laggiù cioè non ci posso credere io sono stata cerca ferro per una vita non è ferro è ferro anche là c'è del ferro ma sono ciecatissimo c'è ma c'era del ferro qua eppure quassù questo è ferro ma ora ce l'ho il ferro non lo so ma nel dubbio me lo vado a prendere a sto punto scusatemi eh voglio dire cioè come ho fatto a non vedere il ferro ho fatto mille mila giri sono pure morto non mi ricordo se ero morto per prendere il ferro sinceramente però forse sì voglio dire ma comunque non è questo il punto il punto è che c'è con il ferro vicino casa e non l'ho preso sì non è che ce ne fosse chissà quanto è però c'era o se riesco anche a prendermelo magari allora sto fiordino perché ce l'ho qua non lo so mettiamo pure questo che cos'altro devo buttare questo ok abbiamo il ferro e però a sto punto vado a prendere pure quell'altro allora questi qua l'abbiamo preso tutto sì erano due erano due e sta lassù io lo vado a prendere raga cioè capito che dobbiamo fare la farm di scheleti però voglio dire ci sono delle priorità il ferro in questo momento non mi ricordo se ce l'ho se ce l'ho già perché vi ripeto questa l'ho iniziata registra adesso sta puntata o per meglio dire questo continuo di puntata quindi non mi ricordo che abbiamo fatto nell'ultima puntata se ce l'avevamo non ce l'avevamo però mi sa di no cioè così a occhio l'andesite la posso usare sì perché no facciamo una cosa del genere e prendiamoci un po di ferro qua c'è anche dell'acqua da dove arriva quest'acqua vedete questo è collegato con il mare sarebbe una gran figata più o meno si potrebbe fare un'entrata passando per l'acqua non lo so eh sì è proprio collegata al mare speriamo che non è il mare non è il mare mai ma in tutto questo l'ho preso il ferro è caduto giù caduto giù ci parevo c'è altro ferro che è cascato mentre io ero lì a fare cose no ok posso risalire va bene torniamo a fare la farm di scheletri un'altra cosa che ho fatto non so se l'avevo già fatta vedere forse l'ho fatta ieri quando ho staccato la registrazione che ero stanco ho iniziato a mettere gli time frame quassù non so se la disposizione definitiva però almeno ce li abbiamo che è tanta roba vediamo se ce l'avevo il ferro ce l'avevo il ferro vabbè sono rincoglionito non è un problema non è un smeltare lo stesso perché noi ce lo possiamo permettere ok facciamo partire e torniamo giustamente a fare la farm di scheletri il mob spawner allora qua i gradini li ho messi vedete adesso si scende molto meglio poi sfascerò pure sti bordini quassù decisamente però intanto già si va più veloci ci ho ripensato li devo sfascerà adesso perché altrimenti sclero male benissimo ora se non mi ricordo male qua sotto ci dovrebbe essere il buco che ho fatto per arrivare sotto la farm in teoria non lo so e registrare una puntata in in più giorni è un casino perché nel mente io mi scordo che avevo fatto ok però si si arriva era giusto la mia teoria era giusta si arriva qua e qua dobbiamo mettere c'è qualcuno che mi sta per ammazzare no quindi dov'è la scaletta non la trovo più facciamo così qua voglio riempire questi buchi vuoti non mi piacciono e mettiamo le scalette qua io direi che come prima configurazione per salire e scendere non è malissimo ma soprattutto è molto vicino alla base quindi voglio dire si può fare a questo punto la facciamo semplice ora facciamo con la risalita io non mi ricordo se ho della senso perché se c'è la senso la posso fare con la risalita altrimenti la facciamo normale poi la risalita la facciamo andiamo a modifica dopo tanto risaliamo qua ci sono già dei blocchi che devo seccare questi vedi non ho ancora seccati poi li secchiamo comunque riscendiamo allora vediamo se abbiamo della che cosa non mi ricordo che dovevo cercare sono troppo sta cosa dovevo cercare sono salito su basi si giusto la sandstone ci abbiamo della senso abbiamo questo non me ne frega il magma è quello che ti tira giù ma non vedo della sandstone si chiamava senso quella strada nel nether oppure della soul sand non c'è non l'abbiamo presa ancora e quindi ci faremo un niente una forma di scritti base a meno che non vogliamo ad andare nel nether e vedere se la riusciamo a beccare potremmo fare questo tentativo rapido facciamo questo tentativo rapido allora buttiamo un po di roba che non ci serve tipo questa roba qua così le scalette vabbè mi porto tutto tanto alla fine voglio di che me frega magari questo non me lo porto però questo forse andrebbe da un'altra parte che vabbè poi lo aggiusto la giuster off camera il magazzino perché aggiustare il magazzino è una cosa estremamente pallosa specialmente perché li fa un sacco di prove intanto abbiamo 454 mazzate che possiamo ancora dare con il piccone quindi in teoria ci adoremmo fa allora scendiamo nelle oscure profondità del nether ad incontrare mostri inenarrabili esattamente speriamo di non morirci appena arriviamo come non detto chi chi è sta gente che cosa volete da o aspetta ma che cos'è non è così che funziona cioè io scherzavo dicendo che potevamo morire appena arrivavamo sali un attimo brutto nano malefico sento è ma allora fai proprio schifo però cioè questi si sono infilati nel portale sono rimasti qua da aspettami dai vieni buttami giù porca zotto ma perché non muore ok penso che il prossimo step sarà quello di iniziare ad incantare a potenziarci qualcosa perché così non si può andare avanti allora senza fare troppi movimenti bruschi e soprattutto guardandoci intorno per vedere se c'è qualche mostriciattolo che è sopravvissuto no vediamo se nei paraggi c'è della soul sand della sandstone non poterò quella roba lì non è niente che mi interessi possiamo provare a fare una discesa senza morire male vedere se troviamo qualcosa potremmo sempre con c'era una zappettina non c'ho mai la zappettina quando serve mi devo ricordare quando vengo nel nether mi devo portare una zappettina che ormai nel nether se non è una zappettina non c'è nessuno purtroppo la triste verità è questa allora io qua non vedo sabbia delle anime non vedo soul sand non vedo niente però vabbè scendiamo così attenzione con moltissima calma ce n'è qualche d'una qui io sono terrorizzatissimo da dallo sporgermi in questo modo così incauto quella non è ragazzi non ne paraggi non me la vado a cercare lo dico almeno non in questa puntata perché potrebbe stavo per guardare in faccia un enderman questa è una cosa che non si fa specialmente quando c'è un'armatura di ferro ridotta così poi tra l'altro voglio dire stavo per riguardare di nuovo un enderman no sento puzza di morte allora ragazzi la soul sand non c'è quindi a questo punto si configura davanti a noi una doppia possibilità la prima possibilità è che ci facciamo la farm modello classico senza danno da caduta iniziamo a farma un po di esperienza ci enchantiamo qualcosa dove cazzarola sta il mio portale del land del nether di dove sto in questo momento forse sta quassù dicevo ci iniziamo ad incantare qualcosa e poi magari veniamo nel nether a prenderci la soul sand e possiamo fare tutto quello che ci serve oppure ci proviamo direttamente no io me ne devo andare cioè c'ho proprio la vocina nel cervello che dice adesso ci muori e c'ho un'altra vocina che dice facci facci non ti preoccupare che tanto non muori poi lo sappiamo tutti ma alla fine che io muoio malissimo e basta allora facciamo la farm di scheletri in modo normale così ci resta anche del tempo per andare a vedere se ci sono dei nuovi non ci sto credendo cioè c'era del ferro pure qua ma io che cazzarola ho visto scusatemi chi è porca zozza mi hai fatto cagare addosso in un modo incredibile maledetto ero ancora in configurazione nether allora fatemi mangiare la morte è vicina io lo so cioè sta puntata non lo so eh secondo me si rischia ok torniamoci nella nostra base è di qua la nostra base? beh chi lo so sì è di qua perfetto allora mettiamo a smeltare pure st'altro ferro che abbiamo appena trovato proprio in loco ma dimmi tu proprio quando uno è cieco e non vede le cose c'è già andato vai vediamo se abbiamo un po' di cibo qua e infatti ce n'è ancora in teoria ce n'è ancora pure nella base ma non mi ricordo dove l'ho messo non importa allora quindi dicevo o la facciamo normale oppure la facciala iniziamo ad impostare col danno da caduta e poi la sistemiamo ma io opterei per farla normale e iniziare pure a provare ad incantare un po' di cose non tantissimo allora intanto aspettate un attimo perché mo mi viene lo sclero eh con calma qua si scende così sfascia tutto quello che ti rompe le balle gentilmente perché altrimenti non è fattibile cioè voi ve ne rendete conto che non è fattibile capito? mo se mi spunta il ferro pure qua sotto questa qua è bruttissima ah questa l'ho messa io perché questo si collegava da un'altra parte quindi qua forse sarebbe più furbo chiuderla benissimo qua pure ci sbatto ma io lo alzo di un blocco e chi se ne frega e faccio la stessa cosa pure qua a sto punto scusatemi se può eh vabbè che cacchio ok così dovrebbe andare sì qua possiamo sfasciare tranquillamente l'oro che mi serviva una volta e ce l'ho ce l'ho a bizzefi vabbè però dai qua non lo sapevo che c'era cioè qua ho scavato e a proposito di scavaggio un'altra cosa che ho pensato bello esplorare miniera eh per carità fantastico bellissimo però io mi farò pure una miniera vecchia maniera cioè praticamente vicino alla base faccio un buco con delle scale che ti portano da quello perché ho letto cose signori ho letto cose pare che in questa versione di minecraft i diamanti si trovino praticamente a meno 58 insomma praticamente vicino alla bedrock quindi ho pensato di scavarmi un bel buco così mi faccio una miniera come quelle di una volta una bella stanzetta che ti accoglie tutte le diramazioni dei tunnel distanziati di due blocchi l'uno dall'altro così per quelle serate in cui non c'è voglia di fare niente allora ti metti là una bella sessione di mining selvaggia quattro chiacchiere e passa la paura secondo me si può fare allora comunque chiacchierando o chiacchierando sfasciando i blocchi e sfasciando i blocchi siamo arrivati qua perfetto allora qui sicuramente questo pezzo non avrei dovuto toglierlo qua sotto sicuramente possiamo dobbiamo otturare tutto perché è un posto abbastanza infido e secondo me è vero ci potrei mettere una torcia però manco mi piace avere i spazi vuoti così se stanno proprio vicini vicini cioè non lo so ho la fobia di ottimizzare gli spazi e questo spazio non era ottimizzato e quindi lo chiudo lo so che non ha nessunissimo senso quello che sto dicendo me ne rendo perfettamente conto cioè sono un po' pazzo però non fino a questo punto però è così mi da fastidio sapere che qua sotto ci sta sto buco e quindi lo devo chiudere più forte di me quindi chiudiamo tutto magari prendendo bene la mila ogni tanto non dico sempre però almeno una volta su 5 che cazzerola diciamo così e porca zozza ok diciamo che in questo modo dovremmo aver sistemato la faccenda una volta e per sempre allora tutti gli scheletri arriveranno qua quindi in linea del tutto teorica io qua posso tranquillissimamente chiudere così magari iniziamo a togliere le torce che non ci servono se no poi io spero di aver fatto bene i calcoli allora in teoria per quello che è la nuova versione di minecraft tutte queste torce dovrebbero non servire a nulla così dicono basta una torcia che ti fa un po' di luce e gli scheletri non sponano così si narra vabbè noi l'abbiamo tolte qua chiudiamo per evitare strane cose ah si faceva un'altra cosa è vero me l'ho dimenticato giustamente gli scheletri potrebbero sponare qua sopra e rimangono lì fa giro giro tondo quindi si fa così in modo che non ci sponano sopra siamo giusti secondo voi non lo so io lo vedo un po' piccolino potrebbero sponarmi in faccia ma se rompo questo che succede così tanto per sapere ah devo rifare così allora quindi rimettiamolo qua vediamo l'acqua dove arriva e no arriva proprio qua l'acqua non è che gliene frega niente ma secondo me è un po' piccola non lo so magari mi sbaglio allora fatemi provare a fare così avevo un ricordo forse era così che si faceva quella reale si mette un blocco qua e si fa così allora quest'acqua questa la porta qua questa la porta qua e tutti quanti vanno a finire là in teoria vediamo che succede se faccio così allora in teoria dovrebbe venire più grande verifichiamo questa stioma intanto il gatto miagola perché non c'è un cazzo da fare evidentemente vediamo un attimo se è vero questa tecnica incredibile che mi sto facendo porca zozza perché sto bloccato ok facciamo qua risaliamo un attimo allora perché da questa parte arriva qui e da quest'altra non ci arriva che problema hai amico mio problema grave sicuramente allora io mi rimetto così scusa se quella mi arriva lì pure tu dovresti oh adesso c'ha molto più senso eh vedi era così che si faceva ok allora in teoria sto guardando un attimo il percorso che fa l'acqua dovrebbero arrivare tutti quanti qua senza problemi proprio quindi mi basta fare una roba del genere loro arrivano tutti quanti qua felici e contenti io li secco male per il momento per il momento perché non abbiamo fatto la parte in cui risalgono quindi qua si può chiudere così questi è vero che cascano ma poi mi seccano se cascano qua quindi qua pure devo chiudere allora devo fare una cosa un po' più tecnica attenzione allora questi li faccio cadere da qua e va bene qua ci metto una torcia se qua chiudo così e poi qua chiudo così lo posso fare allora cerchiamo di rompere quella perfetto e iniziamo a fare così se no ci moriamo male oh vedi e già stanno cascando i ragazzi quindi io mi potrei mettere qua vabbè con un po' di mazzate giustamente perché gliele devi dà per forza le mazzate questi cascano ma voi direte ma così ci metti un fottio di tempo avete pure ragione effettivamente ci metto un fottio di tempo perché senza danno da caduta è un po' un casino purtroppo però non ho il coraggio di andare nel nether adesso sono sincero cioè secondo me ci muoio malissimo se ci provo intanto qua chiudiamo tutto quello che non ci serve che poi sicuramente lo dovremo sfasciare per fare il sistema di risalita però intanto lo chiudo almeno non mi devo preoccupare di illuminare cose questi intanto stanno cadendo felici io qua posso fare una cosa del genere a sto punto sapete che vi dico io la mia discesa me l'allungo un altro po' fino qua così scendo pure qua bello tranquillo ok c'è la spadina stupidissima effettivamente ci metto una vita così me ne rendo conto e mi seccano anche tra le altre cose vabbè però la farm ce l'abbiamo voglio dire già è qualcosa già è qualcosa possiamo pure prendere le ossa vabbè secondo me così non è molto utilizzabile diciamoci la verità diciamocela tutta questa faccenda perché così è abbastanza uno schifo però vabbè dobbiamo fare il sistema di risalita ma non lo faremo adesso adesso non lo rifaremo ritorniamo indietro e andiamo a vedere se mi avete scritto qualcosa nei video perché non ho ancora visto non ho ancora aperto i commenti o se li ho aperti non me li ricordo ovviamente quindi ce ne torniamo un attimino qua belli tranquilli noi abbiamo ancora voglio dire la nostra stanzetta da finire attenzione non è che stiamo qua a pettinare le bambole che attraversano la strada allora vediamo quali sono i vostri commenti allora il primo commento che ho letto è di Bob Ruma qua c'è sto carico di roba Bob aspetta un attimo che è un casino se no posso unire più blocchi no Sibo forse va bene allora Bob ci dice che adesso con fortuna pure l'oro e il ferro subiscono l'effetto del piccone che è giusto allora effetto nebbia pavimento ok questo l'abbiamo scritto è sempre Bob Ruma e ti devo ricopiare perché purtroppo te lo scrivo qua iniziare a fare il piccone con fortuna non è una brutta idea assolutamente ok poi c'è sempre Bob che mi consigliava di fare l'enchanting table sotto il pavimento del magazzino attivarla con una con una sorta di meccanismo però non lo faccio qua perché sarebbe un casino sfasciare tanto poi come gli ho risposto pure a lui nel commento la vera zona dell'enchant sarà quella nel land lo sappiamo tutti e poi invece Noe Mazzonka mi ha consigliato di fare la stanza dell'enchanting con l'ametista l'ametista è un bel blocco ametista blocco magari quando faremo la farm nel land la faremo in modo particolare con l'ametista potremmo provare oppure se farò altre zone enchanting in giro per il mondo potremmo usare l'ametista ok allora vediamo che cosa possiamo fare di questi consigli vabbè il numero dell'episodio grande l'abbiamo fatto grazie a Calogero che ce l'ha ricordato e quindi lo cancelliamo Evil Joy slab di bambù poi Evil Joy mi ha pure detto questo è simpatico grazie grazie veramente molto grazie il libro delle coordinate dei tesori pure lo faremo appena troviamo un tesoro dare dei nomi ai luoghi questa cosa l'ho scritta ma non l'abbiamo ancora fatta e questa è stata la mia idea episodi sono sono lunghi questo qui l'abbiamo già letto però abbiamo detto che li facciamo lunghi perché sono è una serie scialla la sciallosità che ci perbade quindi non li monto e taglio esageratamente quindi verranno episodi di 20-30 minuti forse 45 dipende il libro delle idee sul leggio tipo altare questa qua la faremo non so ancora dove effetto nebbio ovviamente l'abbiamo visto l'ametista e piccone con la fortuna va bene allora intanto qua abbiamo efficiency qua dentro io ho un altro piccone tanto per senti butta sto blocco me lo sto trascinando dietro come se fosse un peso vediamo che cosa ci uscirebbe se io provassi a buttare sto piccone nell'enchant così tanto per fare una prova vediamo un po' efficiency for efficiency for è tanta è bella questa però come cacchio la faccio 30 livelli con quella farm non era questa la discesa ok 30 livelli sono tanti da fare secondo me ragazzi purtroppo sottolineo purtroppo la cosa da fare adesso è andare a cercare della soul send mi tocca necessariamente dobbiamo andare nel nether ragazzi dobbiamo andare nel nether in questo modo non ci arriviamo mai allora nel nether non c'ho i diamanti per farmi un'armatura e non mi farò un'armatura di diamanti casomai se devo andare nel nether ci vado senza niente secondo me è una scelta intelligentissima quindi andremo nel nether missione morte praticamente ve lo dico subito cioè probabilmente molto probabilmente moriremo allora io penso che con questa robetta qua ci potremmo anche azzardare 297 picconate 55 di questo l'armatura fa schifo lo so l'unica cosa che devo farmi è qualcosa d'oro e qualcosa d'oro mi farà un caschetto tanto per evitare di farmi saccagnare male da quei cosi la i piglin questo casino è sta cosa che è ancora accesa forse sarebbe anche il caso di spegnerla voglio dire tanto mi ha smeltato tutto vero bravissima quindi mettiamoci il nostro super elmetto figo madonna sta roba è proprio messa malissimo raga ci proviamo proviamo non so tanto convinto di sta cosa che stiamo per fare però proviamoci allora non sarà un'esplorazione lunga cerchiamo di di beccare il posto rapidamente qua intanto piove è bellissimo quando piove mi inventerò qualcosa qua allora siamo di nuovo qui ora io la prima cosa che farei è cercare di non morire quello è ovvio vorrei scendere là sotto per scendere là sotto c'è un modo e non mi son portato alla zappa ma allora vedi che me lo faccio apposta però eh però mi son portato dei blocchi da costruzione perché sapevo che sarei dovuto scendere quindi con i blocchi da costruzione possiamo farci qualcosa che assomigli a una scaletta e da cui poi poter risalire facilmente in teoria dovrebbe essere più o meno così la cosa da fare ok ce la possiamo fare ce la possiamo fare siamo già scesi a un piano ora io posso scendere più giù senza morire male perché è vero che sono venuto qua senza nulla però morire male non è che mi piacerebbe allora cerchiamo di sfascia questi non si sfasciano con niente sti cosi porca zozza l'oro e la zappa io ho arrivato qua potrei fare in modo no ma di là non conviene abbiamo andato all'altro lato allora azzardiamo a farci un pillarone ma a sto punto me lo facevo da sopra il pillarone scusami eh cioè voglio dire non è per cattiveria ma che senso ha fare tutta sta discesa era da qui il portale posso farmi un pillarone che da qua va là lo so che è pericolosissimo allora se sentiamo un ghast corriamo velocemente me lo son messo l'ermetto d'oro ok se un piglin mi salta al collo no ce l'ho ce l'ho allora siamo qua qua c'è l'enderman che mi guarda malissimo cerchiamo di non prendere oppure di prendere meno danno da caduta possibile visto che siamo messi come siamo messi allora della sandstone handstone come cacchia sandstone soul sand ok stavo già per morire malissimo che culo ok vabbè che ci sto andando sciallo però porca zozza almeno 5 minuti campiamoci dentro a sto posto che dita si può fare spero di si allora il coso del land è da quelle del nether è da quelle ma perchè c'ho land in continuazione perchè voglio andare nel land ma è presto per andare nel land come l'ho uccito l'ender dragon una sputazzate non è fattibile andare nel land adesso non sono pronto non sono in grado non mi ricordo un cacchio cioè quello il dragon come mi vede mi secca ma proprio instant ok posso arrivare laggiù allora il mio problema non è tanto scendere il mio problema sarà ricordarmi da dove cazzarola vengo vabbè finora è ancora semplice perchè abbiamo questo saliamo e andiamo di là allora proviamo questa esplorazione mistica a me serve un semplice e schifoso blocco di sabbia del nether quindi ho la solsen ho la solsen non mi ricordo l'altra come si chiama vediamo qua non c'è un cacchio là c'è l'attrezzino che puoi cavalcare ma io non c'ho le selle io sono sempre abbastanza sfigato quando spunto nel nether purtroppo allora io non voglio prendere troppo danno da caduta quindi cerchiamo di evitare eccola là vediamo quella lì cos'è è solsen no qua non c'è là non c'è come la vedo brutta sta cosa come la vedo brutta sento proprio l'odore della morte che si avvicina provo ad andare di là proviamo ad andare di là ho abbastanza blocchi non lo so probabilmente si mamma mia il nether ragazzi è sempre il nether ok diciamo che andiamo sempre dritti così poi per tornare dobbiamo tornare sempre dritti ma non vedo nulla di interessante ma manca a pagarlo vedo qualcosa di interessante qua comunque tre secondi fa ho detto andiamo sempre dritti ho appena svoltato vabbè è quella potrebbe essere quella si vede una ceppa di niente da qua non lo so devo prendermi un po' di blocchi allora prendiamoci un po' di blocchi sperando di non beccare lava ovviamente altrimenti muoiamo malissimo subito facciamo una roba di questo tipo tanto per eh aspetta ma il piccone non è che dura all'infinito infatti stava quasi seccandosi poverino quanti ne abbiamo fatti io penso che dovremmo arrivarci perché mi sono portato il secchio che se muoio poi devo spendere altri lingotti sì lo so è lontanissimo forse è meglio andare di qua forse diciamo piano 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 sì magari mettersi un blocco più in alto della lava era più furba come cosa però vabbè proviamoci momenti di tensione incredibile voi non ve ne rendete conto ma io sì perché ho il terrore che sto di spalle non vedo nulla qualcuno mi secche ciao allora siamo qua quindi che cosa è successo ora che siamo qua niente dove dovevamo andare? di qua penso allora della soul sand qua c'è della lava tantissimo sì madonna ma che posto schifoso però che sto sponato eh voglio dire ma non lo so una fortezza un posto normale questa è tutta gravel io che cazzo ora ci faccio della gravel vabbè l'unica alternativa è raggiungere quel posto ci sono no quello l'avevo scambiato per uno scheletro invece non è uno scheletro allora andiamo da quella parte e cerchiamo cerchiamo cioè speriamo di trovare qualcosa dove siamo? allora quando facciamo questa operazione c'è il fenomeno il cosiddetto fenomeno del mignolino bastardo cioè tu sei qua shiftato no? io sono shiftato col mignolino ovviamente a un certo punto il mignolino si anestetizza da solo si addormenta e magicamente si alza per i cazzi suoi e tu smetti di essere shiftato e finisci come un coglione nella lava non vi è mai capitato? secondo me si ma mi è capitato un sacco di volte ma tantissime oh come voleva si dimostrare non c'è un cazzo di niente va bene proviamo ad andare di qua no non c'è proprio niente l'aria niente zero ma a che altezza sto in questo posto rip 32 non penso che mi convenga scavare dei buchi enormi nella speranza di sbucare da un'altra parte forse converrebbe esplorare un attimino meglio qua nei dintorni questo che cazzo la sta facendo aspetta aspetta non penso che mi posso mai salvare non ci non penso infatti non mi salverò mai non posso salvarmi mai ma eh lo sapevo lo sapevo lo sapevo però voglio dire questa è stata una morte infame cioè chi avrebbe mai potuto pensare che i blocchi di gravel che stavano nella lava si inabbissassero nessuno nessuno mai nell'universo poteva pensare a una cosa del genere capite è un problema vabbè non abbiamo perso chissà che cosa per fortuna possiamo bene o male rifarci un l'armatura no mi faccio un'armatura d'oro volendo qualcosa mi rifaccio qualcosa e ormai ci siamo andati voi immaginate che dopo tutto sto casino io c'avevo la solzione qua no è impossibile infatti non c'è non c'è e comunque tutto questo non c'ho manco il legno cioè capite io mi devo fare degli stichettini e ho un blocco cioè un plank di dark oak basta cioè devo andare a prendermi un fottuto pezzo di legno per farmi degli stichettini vabbè non ho parole bene signori e con questa configurazione potentissima ritorniamo nel nether lo so adesso ci spostiamo cambiamo la propria zona ce ne andiamo lontano perché secondo me l'entro non c'è un cacchio dobbiamo proprio spostarci e l'unica cosa per spostarci che abbiamo sono sti blocchi di cobblestone non ci abbiamo nient'altro no non dovete dire nulla voi in questo momento non dovete parlare voi non l'avete visto è successa una cosa drammatica oh ero convinto di di aver saltato su un blocco che avevo messo invece il blocco non c'era ho saltato dalla parte sbagliata qualcuno di voi mi aveva detto però vedi solamente una morte dopo tot episodi complimenti le sto a recupera tutte che disperazione e signori praticamente si ricomincia da zero allora facciamo un altro tipo di discorso adesso siamo tutti un poco seri facciamo finta che tutto quello che abbiamo visto non sia mai accaduto prendiamoci un po' di cibo prendiamoci del ferro e anche del tempo per pensare soprattutto andiamo a rifarci un attimo quello che ci serve è giorno è notte morirò non lo so allora sto rompendo i blocchi di questa quercia che stava qua vicino adesso raccoglierò i sapling e mi porterò dei fottuti sapling là sotto perché ogni volta uscire e arrampicarmi e andare a prendere quegli alberelli rosa di merda ma anche no quindi ora se gentilmente mi butti dei sapling grazie magari siamo tutti più contenti e io non ti porcono male io te lo dico poi organizzati tu non voglio sapere nulla allora questa non è stata una delle puntate più fortunate di questa breve serie diciamoci la verità non voglio dire che è stata una puntata di merda sarei tentato a dirlo ma non lo voglio dire anche perché la colpa è stata la mia a parte per quei blocchi di gravel che si sono inabissati e nessuno ci avrebbe mai pensato forse puoi distruggere anche questo perfetto abbiamo sei sapling ok va bene quindi qua c'è dell'altro carbone che quando mi serviva non l'ho trovato mai va bene ora io intanto mi faccio una crafting table la piazzo un attimino qua facciamoci anche un bel piccone è proprio puntata 0 no 0 no perché c'è il ferro però puntata 0 fondamentalmente allora qui sotto probabilmente non vedrete nulla perché lì è tutto estremamente buio quindi non continuerò a scavare là faremo un'altra cosa non torneremo nel nether perché chiaramente mi devo rifare tutto e ho finito i materiali cioè sinceramente non voglio sprecare altro tempo in questa pazza ricerca di un blocco di sabbia di merda però ci servono dei minerali perché giustamente non c'ho più roba per farmi l'armatura e quindi dovrei andare a cercare dei minerali a questo punto uniamo l'utile all'utile perché di direttevole non c'è un emerito cacchio e come vi avevo detto all'inizio è vero che è molto piacevole andare ad esplorare queste bellissime caverne queste grotte fantastiche eccetera eccetera però una scavata vecchio stile secondo me ci sta quindi ora che cosa faremo e voi vi chiederete perché ti sei fatto questa crafting table se già ce l'avevi non lo so non lo so non me lo chiedete sicuramente ah sì l'ho fatta perché ce la portiamo diciamo così ora ci facciamo delle bellissime torce che già ho qua prendiamo altro carbone ci facciamo anche altre torce non me ne frega niente voglio essere pieno zeppo di torce non esageriamo che il legno mi serve però facciamo così in teoria con le torce dovremmo essere a posto ho dei blocchi d'erba da qualche parte di come si chiama di terra granita granita non c'ho la terra ah eh mi pareva strano c'ho la terra allora intanto scusatemi eh ma ve l'ho già detto mi sarei anche rotto le bare da andare a prendere gli alberi là fuori quindi momentaneamente pianterò degli alberi qua così tanto per divertimento ecco qua tanto le torce ci stanno e chi se ne frega non uso la bomb il tanto adesso ce ne andiamo quindi ce ne frega niente mi servirà una spada no lo so che voi dite si ti serve non la voglio usare una spada va bene voglio farmi un altro piccone basta andiamo avanti a picconate fine se becco un mostro gli becco una picconata in bocca e via ok scendiamo con queste cose ora dove possiamo fare il punto per scendere che ci darà l'accesso alla nostra super miniera fantastica sicuramente in un punto basso però manco tanto basso perché non è che più andava a scavare poi devo fare ecco l'ho trovato l'ho trovato tantissimo da qui avrà ci avremo l'accesso alla nostra miniera momentaneamente no non mi piace fa schifo come idea è proprio un'idea orribile no è un'idea orribile perché poi voglio farci che l'ingresso della miniera sarà carino cioè è proprio una classica miniera quindi farlo là non ha nessun senso lo possiamo fare qua sotto da qualche parte qua sotto sicuramente possiamo farlo il creeper no il creeper no ti prego anche il creeper no per favore lo zombie allora no forse non è il posto giusto ho trovato il posto giusto non è vero però visto che comunque già abbiamo sto tunnel che già scende giù a una bella profondità scaviamo da laggiù almeno ci evitiamo tutti questi blocchi da scavare cioè secondo me non è un'idea proprio malsana qua ci sono gli scheletri che li lasceremo vivere anche perché anche li ammazzo sputazzati in faccia mi sembra pure giusto che loro debbano vivere quindi io mi farei l'ingresso per la mia miniera qua per forza la facciamo qua a che altezza siamo? siamo a meno 40 non dobbiamo nemmeno scavare tanto dai dove stanno le torce porca zozza non dobbiamo scavare tanto arriviamo alla bedrock e poi tiriamo dritto chiacchieriamo tiriamo dritto e vediamo quello che succede allora siamo arrivati ad altezza meno 57 non lo so perché mi ispira al meno 58 in teoria dovrebbe essere un'altezza buona per trovare i diamanti quindi ci facciamo una bella scavata dritto per dritto anche perché penso che non si può scendere tanto più sotto di qua infatti là c'è la bedrock quindi che vuoi scendere perfetto ok scaviamo dritto per dritto vediamo quello che succede io posso mettermi queste nella seconda mano sì così le potrei piazzare con l'altro tasto vediamo dobbiamo comunque prendere dei minerali veramente dovremmo prendere più del ferro però se troviamo dei diamanti non è che ci faccia tanto schifo così siamo già pronti per sfruttare gli incantamenti incredibili che faremo una volta che abbiamo raccimolato milioni di punti di esperienza con quella bellissima farm appena trovo un blocco di soul sand per far salire quegli scheleti deficienti che al momento vi ricordo non l'abbiamo trovato purtroppo perché siamo sponati in un posto di merda nel nether io sono morto due volte nel nether signori due volte una volta in un modo incomprensibile e un'altra volta veramente anche la seconda volta è incomprensibile perché io che mi lancio nel vuoto così alla cazzo non è proprio però vabbè siamo siamo morti abbiamo trovato già del ferro vedi i vecchi metodi che non si smentiscono mai è vero che qua ci stanno sti blocchi com'è che si chiamano il cobbled dip slate che è tostissimo ci metti 37 anni per sfasciarlo però sono molto fiducioso che entro questa puntata noi riusciremo a trovare dei diamanti quanti ne troveremo non lo so spero almeno uno che cazzo no dai allora mi son fatto un proposito un buon proposito per la fine di questo episodio sarà quello di trovare almeno almeno 12 diamanti totte l'ho buttata proprio grossa io ci spero ecco se fosse tutto così questo blocco qua come si chiama non è la diorite non è manco tuffo il tuffo è carino perché si sfascia facile è bello non ti lascia l'amaro in bocca c'ha pure un bel suono quando lo sfasci quindi secondo me ci sta poi qua becchi sto blocco schifoso che io spero di stascavare all'altezza giusta cioè avevo letto ma non è che mi ricordo proprio bene 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 quale fosse l'altezza spero che 58 dovrebbe essere quella giusta in teoria allora qualcosa stiamo trovando sicuramente perché voglio dire la redstone comunque ci servirà è vero che già ce l'abbiamo però prima o poi la useremo pure sta redstone per fare qualcosa che non sia un repeater intanto continuiamo però sto notando che il primo piccone ci sta lentamente abbandonando io ho dell'altro ferro ho solo due pezzi di ferro più ah vabbè posso anche metterlo a smeltare volendo un terzo piccone ci esce ora sarebbe bellissimo se tu iniziassi a farmi vedere dei diamanti così tanto per gradire non voglio essere pignolo che ti rompo le balle neoprimente però sarebbe veramente cosa gradita beccare un diamante anche dell'altro ferro non è che mi fa schifo per carità cioè fammi vedere che c'è sta qualcosa qua sotto ti prego ti prego non far rompere il primo piccone senza aver trovato nulla ti prego quanti abbiamo quanto ci rimane 24 colpi troveremo dei diamanti entro 24 colpi beh poi se mi chiudo la strada perché sono convinto di avere le torce nel tasto 2 inizio a perdere le speranze di trovare un diamante prima che questo piccone ci saluti non è vero non è vero assolutamente quanto quanto c'è rimasto di coso qua 10 colpi ancora abbiamo trovato un diamante non è tantissimo due diamanti non sono tantissimi cazzo sono veramente solo due eh vabbè però non è vero c'è neanche un terzo e un quarto è giusto che il piccone si sia rotto non ce ne può fregare di meno ma abbiamo trovato già 4 diamanti che non è poco secondo me quindi io continuerei anzi no facciamo la mia tecnica magica vediamo se sniffo i diamanti come li sniffavo una volta provo a girare di qua così proprio a a muzzo normalmente dovrei tornare indietro ma si torniamo indietro quindi facciamo tunnel di 2 in modo che da questo lato vediamo questo blocco e da questo lato vediamo questo blocco quindi di scavare sti due blocchi non ce ne frega niente perché tanto li vediamo cos'è sto rumore avete sentito il rumore strano io ho sentito un rumore bruttissimo che rumore era cioè sono i suoni di minecraft le musiche c'è qualcosa di bruttissimo qua ho sentito un rumore bruttissimo cioè non ho mai sentito un rumore così su minecraft che cos'era non lo sento più ma non so nemmeno se voi li sentite perché non me ne rendo conto vediamo di qua no non lo so strana questa cosa strana vabbè metterò una traccia per terra per ricordarci che lì abbiamo sentito un rumore inquietante almeno io l'ho sentito allora troveremo degli altri diamanti io spero eh vabbè però se le metto tutte per terra poi come faccio a capire qual è il posto dove ho sentito quel rumore inquietante dicevo io spero di sì io sento anche della lava no sento della lava però non capisco se ho delle allucinazioni non ho idea comunque non perdiamo la concentrazione sui diamanti che come ti deconcentri quelli se ne accorgono e cicciano da un'altra parte invece tu devi essere focalizzato devi avere il focus sull'obiettivo io voglio trovare dei diamanti prima che finisca questo tunnel o prima che si rompa questo piccone sarebbe meglio trovarne almeno altri sei prima che il piccone ci abbandoni ci riusciremo e chi lo sa non lo chiede da me perché non ne ho proprio idea allora finora non c'è nulla di interessante direi vediamo qua sotto forse c'è qualcosa poi ripeto non è che sto convinto di essere all'altezza giusta eh dai fammi vedere qualcosa quanti tocchi ci sono rimasti qua 120 mazzate posso dare ancora su forza amico forza diamantini a go go per me 1 2 3 5 97 milioni di doni niente non è vero eccolo qua ma scusatemi ok si si ma qua secondo me ce n'è solamente uno 2 non è vero attenzione allora ecco un diamantino c'è anche il terzo il terzo non c'è perché non c'è il terzo che stia più giù no più giù c'è la bedrock non ce ne frega niente ne è della bedrock no converrete con me che della bedrock non ce ne può frega di meno però abbiamo trovato gli altri due quindi siamo a quota 6 io li metterei qua i diamantini così almeno si vedono queste torce le unirei così almeno ce ne abbiamo di più continuiamo questo scavaggio selvaggio allora secondo me ne potremmo trovare degli altri su questo rettilineo statisticamente era così una volta ma hanno cambiato tutto porca zozza quanti colpi ce li sono rimasti 64 mazzatine possiamo dare al piccone potremmo trovare degli altri diamanti prima che il piccone ci abbandoni e infatti ragazzi cambiano le versioni di minecraft ma il fiuto lo sniffamento per i diamanti è sempre quello eccolo qua un bel diamantino addirittura due diamantini tre diamantini quattro diamantini cinque diamantini io sto pensando che se ci avessi avuto fortuna con questi tutti questi diamantini sarebbe stato molto meglio obiettivamente ci abbiamo 14 diamantini io ne volevo fare 12 altro che le tecniche vecchie sono sempre buone basta beccare l'altezza giusta scavi dritto e via e ti porti a casa i diamantini a sto punto è così e ma voglio dire di che cosa stiamo di cosa state parlando qualcuno di voi sta dicendo qualcosa no perché io voglio dire qua stanno cicciando dei diamanti fuori come se fosse natale voglio dire guarda qua guarda 17 18 è con un picconcino di ferro vi ricordo che qualche minuto fa eravamo rimasti senza nulla poveri abbandonati adesso ci abbiamo 19 diamanti in più rispetto a prima mi sto attrezzando perché ho bisogno di minerali assolutamente chissà a che altezza siamo vediamo da questo lato questo piccone mi abbandonerà vabbè ma è giusto è giusto che sia così ha fatto il suo sporco lavoro a sufficienza facciamoci due sticchettini proprio di numero facciamoci anche una fornacella ce l'ho dell'altra cobblestone non ho la cobblestone vabbè tanto questo è sempre cobblestone no in teoria e infatti meno male pensavo che fosse diversa dicevo facciamoci pure un altro po' di cobblestone la mettiamo qua per terra toh due blocchetti di ferro sì magari se smelto questi è meglio così ci facciamo il ferro ci facciamo pure degli altri picconi mi sarei potuto già fare un piccone diamante ma non volevo sprecarli ed ecco il nostro picconazzo volevo semplicemente vedere se eravamo ancora su quel tunnel oppure se l'avevamo superato l'abbiamo superato tantissimo quel tunnel quindi a sto punto io direi che ce ne possiamo pure risalire secondo me sì è 19 diamanti non è male come caccia vorrei dire io oh lì siamo tornati alla nostra fama di schede da qualche parte c'è la fama di schede eccola qua da dove si sale da qui ecco magari qua potremmo creare un ingresso per la miniera che porta anche alla fama di schede perché no secondo me ci starebbe bene questi vedi come cicciano fuori come i funghi proprio questi alberelli bellissimo andiamo a posare i nostri diamanti insieme agli altri signori abbiamo 36 diamanti e la full armor ci esce tranquillamente in ogni caso io direi che per questo episodio drammatico oserei dire drammatico a tratti comico ma per la maggior parte drammatico ci possiamo fermare qua io spero vi sia piaciuto vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi